e ho deciso di ricandidarmi con la CGL FP. Lo faccio perché in questi tre anni del mandato passato abbiamo lavorato bene e portato importanti risultati per i lavoratori di questo ospedale e la CGL tutta per la sanità pubblica. E sono convinta che ci sarà bisogno di farlo anche negli anni prossimi.